La WWE dovrebbe tornare in Arabia Saudita nel mese di settembre e molto probabilmente se ciò dovesse accadere ci porterà TLC, ovvero l'evento speciale, il Premium Live Event, nel quale si disputano i classici match con sedie, tavoli e scale. Ora, la news non è ancora certissima, però il Wrestling Observer e altre fonti la danno come estremamente probabile. Sarà, peraltro, l'ottavo show in Arabia Saudita, sin dall'accordo con questo Stato sovrano che è iniziato nel 2018 e che dovrebbe durare almeno 10 anni. C'è ancora in ballo l'eventuale show speciale nel Regno Unito, anche quello fissato teoricamente per il mese di settembre, però siamo quasi ad aprile e una prevendita per un evento di così ampia portata, vi dicevo, secondo l'analisi di alcuni esperti, necessita di circa 6 mesi per poter creare il buzz e la pubblicità giusta per riempire uno stadio. Aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre. Ci siamo, ci siamo, però se questo show nel vecchio continente si deve realizzare, si deve concretizzare, beh, la sensazione è che delle novità in merito debbano uscire al più presto. Per quanto riguarda l'evento in Arabia Saudita, ad ora non c'è la data, quindi aspettiamo di vedere se la cosa verrà confermata e anche di capire dove verrà collocata in calendario. Perché c'è pure la sensazione che magari in Europa non vengano e quell'evento lì libero nella schedule della WWE poi in realtà sia appannaggio appunto di TLC che si dovrebbe svolgere in Arabia Saudita. Va bene, vedremo, vedremo, però era una novità importante. Sapete che con gli eventi in Arabia la WWE monetizza in un modo scellerato, fa una vaccata di soldi. E ultimamente sono stati anche di discreta o buona qualità. Quindi ecco a voi la news in attesa di Vrestelmenia che come vi ricordo è questo weekend, sabato e domenica. Mi raccomando, qua il fuoco dell'attesa sale sempre di più, non vedo l'ora che sia showtime.